Prosegue l'Open Day all'Istituto Scolastico Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle, diretto dalla Preside Anna Gangarossa. Gaetano Ravanà. Open Day all'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle. Dopo due giorni, un successo straordinario. Hanno fatto nuovamente centro le direttive della dirigente scolastico Anna Gangarossa, che ha arricchito l'offerta formativa dell'Istituto. Offerta che ha ingolosito mamma e papà emedoclini, che hanno potuto constatare il grande lavoro che viene svolto annualmente al Pirandello, grazie anche al certosino lavoro del corpo docendi, che non si risparmia mai. Un istituto comprensivo Pirandello sempre al passo con i tempi. Abbiamo visto sport, abbiamo visto la cultura che si respira qui dentro, in una scuola inditolata a un premio Nobel, tra l'altro. Esattamente. Noi già ieri abbiamo inaugurato l'intera settimana dedicata all'Open Day. L'Open Day per noi non è solo un'occasione per invitare genitori che si accingono a scegliere una buona scuola per i loro figli, ma è veramente un outdoor education. Apriamo la scuola a tutti i nostri bambini e alle loro famiglie, proprio per mostrare alcune delle attività che la scuola normalmente propone. Sì, dicevamo anche una buonissima affluenza. Abbiamo visto tantissima gente in questi primi due giorni e ancora non è finita. Siamo nemmeno forse a metà dell'opera. Sì, abbiamo visto una grande affluenza perché ieri abbiamo presentato, peraltro, un presepe intitolato C'era una volta porta in pedoble, che abbiamo realizzato grazie all'adesione di un progetto unicef adotto a una pigotta, che però abbiamo poi trasformato in personaggi, bottegai, artigiani realmente esistiti. E questa è stata una forte, a parte attrattiva, che ha portato molta gente. E' stata una bella attività che ci ha permesso di collaborare con le mamme, ma soprattutto con i nonni. Quindi c'era anche la curiosità di fare questo tuffo nel passato e di vedere i nonni, i genitori, accanto ai loro bambini, la porta in pedoble di qualche anno addietro. Poi, naturalmente, da oggi abbiamo presentato la nostra offerta formativa, che è ricca di tantissime attività, attività sportive, grazie a due convenzioni che abbiamo sottoscritto da pochissimo, con la Fortitudo, che è sicuramente un'associazione molto forte sul nostro territorio. Quindi gli esperti della Fortitudo faranno delle lezioni di mini basket con i nostri bambini in età, in orario curriculare. Così come una convenzione con l'associazione Trinacrea, che destinerà delle ore settimanali ai bambini per fare calcetto. E poi ciclismo, tennis, campionati sportivi studenteschi, insomma, tantissime attività motorie, ma non solo. Diciamo che ha messo in pratica quello che un po' il Ministero della Pubblica Istruzione recita da qualche tempo, no? Far praticare sport ai ragazzi. Sì, perché un obiettivo principale che riassume il nostro POF è la parola cura. Noi ci prendiamo cura dei nostri bambini, ci piace che i nostri bambini si prendano cura di loro stessi. Cura significa anche uno stile di vita sano, che non può prescindere dallo sport, ma significa anche educazione ambientale, significa anche corretta alimentazione, significa anche screening, questo è sicuramente un obiettivo ministeriale. Ma in generale diciamo che noi cerchiamo di sviluppare tutte le competenze europee, per esempio abbiamo potenziato tantissimo anche l'inglese. La nostra scuola, già riconosciuta come Eccellenza Trinity, già dall'anno scorso ha attivato anche dei progetti con il Cambridge. Sono tanti i bambini che conseguono questo titolo. Così come l'informatica, già l'anno scorso abbiamo potenziato le competenze multimediali e quest'anno, grazie alla realizzazione di STEM, di STEAM, pensieri computazionali, coding, insomma sono veramente tante le attività che offriamo ai bambini, ma sin dalla scuola dell'infanzia.